cari amici di mille un'avventura in questo video vedremo una cosa che salvo uno dei nostri iscritti sta chiedendo da tempo cioè come realizzare un gioco con g develop che venga in qualche modo pubblicato su gamepix che è una piattaforma per pubblicare videogiochi e monetizzarli anche ora in questo video vedremo alcune cose altre le abbiamo già mostrate in altri video che troverete linkati qui sotto perciò è molto specifico per la richiesta che salvo aveva magari a questo punto ha già risolto però andiamo a vedere quindi come creare un videogioco con g develop useremo un template già pronto e come inserire il plugin che permette poi di mostrare la pubblicità su gamepix purtroppo questa procedura non l'ho compiuta fino in fondo perché ci sono dei tempi molto lunghi perché il nostro gioco venga accettato da gamepix almeno questo è quello che è capitato a me e quindi non so esattamente se funziona tutto come dovrebbe però proveremo a testare con gli strumenti disponibili quindi c'è questa piattaforma o meglio questo game engine che vedete qui che si chiama g develop è gratuito si può addirittura creare un gioco online senza scaricare ma potete farlo se volete senza scaricare l'editor sul vostro computer io l'editor ce l'ho sul mio computer però proviamo a usare la versione online in questo video così è tutto molto più semplice anche per chi volesse seguire senza installare nulla quindi g develop 5 il modo facile intuitivo per creare videogiochi ci sono tantissimi progetti già pronti per capire come funziona tutto e poi c'è gamepix che è questa piattaforma ce ne sono tantissime per pubblicare videogiochi prodotti e pensati per dei casual gamers quindi chi vuole divertirsi velocemente con dei giochi molto semplici molto veloci che però contenendo la pubblicità essendo gratuiti ma contenendo la pubblicità possono monetizzare per chi li ha creati e quindi gamepix è questa piattaforma ripeto ce ne sono tante ma guardate gli altri video che ho pubblicato e che trovate sempre qui sotto bisogna registrarsi come sviluppatore anche questo l'ho già mostrato come si fa qui c'è login join us registratevi se volete sviluppare giochi e a questo punto immaginate di essere sviluppatore di gamepix di avere installato g develop che cosa dovete fare prima di tutto beh ci vuole lsdk software development kit per g develop 5 apposito per gamepix in questa pagina qui che troverete linkata qui sotto qui sono dentro al mio account troverete la dashboard che vi dice quanto avete guadagnato i giochi che avete prodotto gli sdk che vi servono per i vari game engine che volete utilizzare vedete che c'è construct 3 che spesso abbiamo visto sul canale cocos poi semplicemente javascript nudo e puro diciamo semplice semplice godò unity e qui sotto il testing toolkit che useremo per verificare se il nostro gioco contiene la pubblicità di gamepix e quindi dovrebbe funzionare e potremo sottoporlo per la review da parte di chi detiene i diritti che possiede gamepix quindi la prima cosa da fare se volete usare g develop altrimenti se volete usare altro come unity per esempio andate a scaricare lsdk apposito visto che salvo è interessato g develop 5 che con con construct 3 sa già come si fa beh g develop 5 clicchiamo qui e vi salta fuori gamepix g develop 5 plugin e vi spiega l'installazione poi qui c'è anche tutta la spiegazione di come utilizzarlo quindi non capisco perché salvo abbia bisogno del mio aiuto comunque glielo diamo volentieri allora installazione ingrandiamo un attimo perché si vede poco allora la prima cosa da fare per installare è scaricare il file json che contiene tutte le specifiche dellsdk quindi vado a cliccare qui e si scarica questo file vediamo se riusciamo a vedere come è fatto io ho cliccato ecco che si sta aprendo adesso ve lo mostro ecco questo sjson file è tutta questa roba qui che probabilmente bisogna anche modificare probabilmente poi qui ci sono tante spiegazioni già inserite comunque a noi non interessa perché quello che ci dicono è scaricate questo file poi eventualmente si può andare a vedere se c'è qualcosa da personalizzare ma non credo quindi ho scaricato il file e poi dice di andare in project manager creator search new extension import extension adesso lo andiamo a vedere e poi selezionare il file che abbiamo scaricato quello che avete appena visto e ora è possibile usare l'estensione in g develop 5 dopodiché si va a leggere l'utilizzo ma andiamo a vedere direttamente ecco qui vedete l'editor online di g develop 5 creiamo un gioco per creare un gioco devo andare in qui in alto c'è la le tre linette file crea potete creare ovviamente un progetto vuoto o un progetto da template ora non è un tutorial che spieghi come usare g develop ne troverete forse qui sotto proprio giochini semplici che ero riuscito a realizzare tanto tempo fa creiamo un progetto da template e prendiamone uno tra tutti questi per esempio 3d car coin hunt seleziono questo e lo apro ecco qui il nostro diamogli un nome sensato wonderful car wonderful car anzi wonderful coin hunt alla caccia andiamo in giro a caccia di monete dove vuoi salvare questo progetto non salvare questo progetto quindi facciamo crea progetto e andiamo a vedere di che si tratta visto che è un progetto che contiene anche le classifiche andiamo a creare le classifiche nel nostro account per questo gioco per farlo però ci chiede di accedere e allora accediamo al nostro account quindi dovete assolutamente registrarvi anche se avete intenzione di usare l'editor online spero che non si vedano le password benvenuta leobos67 non so perché ah no c'era la lettera quella strana la elo rovesciata perché non sa se sono appunto maschio o femmina e quindi niente avevo letto benvenuta ma invece benvenuto che non si capisce mai come sia sono molto rispettosi di della nostra sessualità a quanto pare su g develop 5 ora crea delle nuove classifiche adesso sta preparando la classifica del del gioco ed eccolo qui il gioco diamo un po di ecco allora il gioco sembra non ci sia nulla se è andato in anteprima eccolo qui il gioco vediamo se riesco anche ingrandire un po ecco il gioco presenta questa questa automobilina forse sentite anche un minimo di audio ma l'ho abbassato molto perché di solito dà fastidio e vedete c'è tutta tutta la mappa in 3d l'automobilina in 2d che se ne va in giro le monetine da raccogliere ne rimangono 25 ci sono gli urti con le automobili gli urti con quindi è un gioco che vi fa capire come funziona g develop anche per avere effetti avanzati ora il gioco attualmente lo potrei anche esportare potrei giocare metterlo su mio sito però noi vogliamo chiudiamo l'editor noi vogliamo inserire l'sdk per gamepix per pubblicarlo su quella particolare piattaforma e allora cosa ci dicevano torniamo qui ci dicevano di andare in project manager creator search for new extension import extension quindi andiamo a cercare nel progetto che dovrebbe essere questo estensioni vedete qui quindi andiamo a vedere bene qui c'è l'iconcina del progetto che ovviamente non abbiamo scritto noi che funziona benissimo però vogliamo inserire l'estensione allora vado su estensioni qui c'è scritto più vedete che in gran parte in italiano quindi anche comodo per chi non conosce bene l'inglese e ci troviamo qui cerca nuove estensioni e qui ce ne sono già tante qui sta ecco sta mostrando anche le estensioni della community e ne trovate anche una se cercate gamepix vedete c'è gamepix sdk che è realizzato da kaiukuk da questo tizio io ho provato a usare questa sembra che funzioni però usiamo quella ufficiale di gamepix allora vedete che c'è il pulsantino qui in fondo in porta estensioni e cerchiamo il file che abbiamo scaricato prima quello che vi ho fatto vedere eccolo qui l'ho messo sulla scrivania e ora ho cliccato l'estensione è stata aggiunta al progetto ora puoi usarla nella lista delle azioni condizioni e se è un comportamento nella lista dei comportamenti abbiamo capito chiudiamo e ora il nostro progetto contiene l'estensione gamepix vedete che è comparso qui gamepix sdk quello ufficiale questo punto cosa si fa il gioco ce l'abbiamo pronto vogliamo solo che all'inizio del gioco venga mostrata una pubblicità che gamepix in qualche modo ci monetizzerà allora andiamo su game eventi vedete che qui sono sul gioco che avete visto prima game ma c'è anche una finestrella game eventi che praticamente contiene tutta la logica del gioco e che non è programmato ma in fondo questa è una sorta di linguaggio di programmazione particolare che comunque è più accessibile magari a un grafico a uno che la programmazione non la conosce praticamente inserisce degli eventi e questi eventi eseguono determinate azioni che possono essere raccogli la moneta aumenta il punteggio e così via ora che cosa facciamo adesso andiamo ad aggiungere diamo un po come ecco aggiungi potremmo aggiungere aggiungi un nuovo evento sotto qui siamo game setup and controls for mobile diciamo l'inizializzazione e noi vogliamo che all'inizio del gioco o all'inizio di ogni volta che ricominciamo il gioco compaia la pubblicità allora andiamo su aggiungi un nuovo evento sotto vedete che qui c'è scritto aggiungi una condizione e qui di fianco aggiungi un'azione vediamo se si può ecco si può ingrandire quindi lo vedete adesso molto meglio a parte che mi sono perso ecco qua allora aggiungi una condizione questa è la nuova che abbiamo aggiunto e aggiungi un'azione clicchiamo su aggiungi un'azione e andiamo a cercare game picks da qualche parte non lo vedo allora forse in altre azioni comunque se non lo trovo scrivo qui game picks e notate che salta fuori show the interstitial ad show the reward ad questo probabilmente quest'azione qui interstitial scritta così è una pubblicità full screen che viene mostrata all'interno del gioco quindi io metto questo purtroppo di game picks me ne intendo poco ma che detta salvo magari se volete delle informazioni allora abbiamo aggiunto un'azione in cui viene mostrata la pubblicità full screen mentre uno sta giocando o ha finito di giocare compare la pubblicità e vi viene monetizzata non vogliamo però che venga mostrata sempre vogliamo in momenti inopportuni vogliamo aggiungiamo una condizione vogliamo che sia mostrata all'inizio del gioco e adesso qui devo un po cercare la condizione giusta vediamo un po se scrivendo così game picks qui se viene inizializzato non c'è inizio gioco qualcosa del genere all'inizio della scena quindi quando la scena viene importata dovrebbe comparire la pubblicità dice che non c'è nulla da configurare ok quindi abbiamo aggiunto qui nel nella logica del gioco che all'inizio della scena bisogna mostrare la pubblicità allora lanciamo l'anteprima vediamo che cosa succede allora vedete all'inizio del gioco in effetti non è successo nulla però adesso andiamo a raccogliere un po di monetine dobbiamo finire il gioco ho perso una monetina quindi ci vorrà un po di tempo ci rimangono 30 monetine dovete sopportare il mio gameplay magari adesso lo taglio un attimo rimane solo una monetina eccola qui che l'abbiamo presa e ci chiede di aggiornare la classifica un minuto e 18 vi ho risparmiato il gameplay ecco il leaderboard ovviamente una partita sola qui dovreste vedere tutti gli altri che hanno giocato che hanno fatto dei punteggi accettabili ed ecco qui game pics video ad la pubblicità che si può schippare cliccando qui sotto qui dovrebbe comparire un video che vi viene monetizzato se non fate skip il gioco ricomincia e di nuovo comparirà la pubblicità quindi dovrebbe funzionare però vedete che non si è visto il video perché probabilmente i video li mostrano soltanto quando poi il gioco è stato pubblicato a questo punto però non è ancora finita dobbiamo pubblicare il nostro gioco quindi cosa facciamo andiamo a selezionare nel progetto non nel progetto ma qui in alto dove ci sono le tre righette file esporta vedete qui esporta web ios android qui potete esportare il vostro gioco per tutte le piattaforme quindi andiamo a esportare vedete che si può ottenere il gioco per desktop per android per ios a noi interessa invece per browser perché game pics pubblica giochi per browser quindi clicco su browser potete anche pubblicare su gd.games che è la cosa più facile che è il marketplace di g develop però a noi interessava game pics quindi clicchiamo su browser e scegliamo html5 e ora esporta come gioco html5 si sta esportando e scarica il gioco esportato ecco quando siete online vi scarica il gioco adesso lo andiamo a vedere qui ecco vi ha scaricato un game punto zip mentre se usate la versione offline desktop vi crea direttamente una cartella sul vostro computer andiamo a vedere come è fatto questo game punto zip contiene tutti i file che sono necessari ha una dimensione di 2 mega e mezzo abbondanti e adesso che abbiamo game punto zip cosa facciamo andiamo a verificare sul sito e potremo anche pubblicarlo sul sito dunque questo lo sposto un attimo chiudiamo qui ecco qui vediamo un po come si fa allora vedete nella pagina che avevamo già visto prima dove ci sono gli sdk in fondo c'è testing toolkit testing toolkit torniamo qui clicchiamo su testing toolkit e compare questa pagina qui dice benvenuti qui puoi verificare se l'SDK è stato integrato correttamente hai già un indirizzo online per il tuo gioco? no lo voglio caricare adesso dice che al massimo 200 mega di gioco il nostro è 2 mega e mezzo possiamo prendere game punto zip e mollarlo qui poi clicchiamo su upload sta inviando il gioco e abbiamo un link che è questo che ci permette durerà 24 ore questo link e possiamo provare il nostro gioco per vedere se funziona e ora copio il link continuo continuo si è aperta questa però io volevo solo provare il gioco allora apro un'altra finestra e metto il link che avete visto prima vediamo che succede made with g develop ed ecco qui il gioco e lo stiamo testando online con il testing di game picks ora vi risparmio tutto il gameplay adesso taglierò il video andiamo direttamente alla fine e vediamo che cosa succede una volta che ho raccolto tutte le monetine bene ho preso l'ultima monetina e vedete che è comparso game picks video ad con il conto la rovescia dietro di me se clicco dietro di me su skip ad riparte e si può giocare un'altra partita non ci hanno detto che ci sono errori quindi probabilmente una volta pubblicato il gioco si dovrebbe riuscire a avere effettivamente la pubblicità questo ce lo può solo dire salvo che è l'unico che conosco che riesce a pubblicare su game picks e noi abbiamo testato il gioco e allora potremmo adesso vediamo un po' dove si deve andare sono nell'account ecco qui c'è games vedete qui su press dk trovate games ci sono due giochi che ho inviato collect coins era del 26 aprile una prova che ho fatto e questo 15 che è il gioco del 15 che ancora dopo diversi giorni è ancora in review e non riesco a capire quanto tempo ci voglia per vedere pubblicato il gioco o almeno ditemi che ci sono dei problemi comunque per pubblicare quello che avete visto prima basta create new game mettete il titolo riempite tutto quello che c'è da riempire e poi vi chiederà di inviare game.zip sul vostro account e avrete il gioco in attesa di review da parte dei proprietari di game picks e magari voi riuscirete a vedere la pubblicità dal vivo e a monetizzare cosa che io però non sono ancora riuscito a fare salvo se hai visto questo video qui sotto dimmi nei commenti quindi se funziona davvero o se c'è qualche problema così sappiamo alla fine che questa procedura che vi ho mostrato effettivamente funziona bene, spero che sia utile a qualcuno questo tutorial e a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti su youtube c'è un canale chiamato mille e una avventura che ci insegna a programmare giochi multiplayer lezioni di codice e avventure virtuali un mondo digitale pieno di emozioni e speranze mille e un'avventura sempre pronta a imparare segui il tutorial e prova a creare con il codice e la fantasy insieme a giocare un'avventura digitale che non potrà mai finire potrà mai finire grazie a tutti